ragazze buongiorno buongiorno che pigrizia oggi ragazze non potete immaginare una pigrizia pazzesca sarà perché ancora non sto bene perché ho ancora il mal di gola un po di mal d'orecchio la notte ho la tosse una pigrizia veramente di cui mi stupisco anche io e vabbè perché non mi sento bene niente stamattina mi sono alzata mi sono svegliata ma forse intorno le sette e mezza 8 sono andata in bagno un attimo mi sono coricata di nuovo ho dormito un'altra oretta forse forse anche di più insomma fino alle 10 ma non avevo nessuna voglia di alzarmi nessuna voglia di fare niente proprio niente e difatti non ho fatto altro che stare a letto e stare così un po sui social su instagram come vedete qui c'è ancora la mia tazza della colazione vi faccio vedere che ore sono guardate ragazze mezzogiorno e niente mi sono alzata in questo secondo proprio una pigrizia e mai una pigrizia giustificata perché mi sento male ragazze perché voi lo sapete che io sono un vulcano che ho sempre voglia o di fare pulizia o di fare cambiamenti in casa di andarmene in palestra oggi speravo proprio di andare in palestra ma non è inutile non mi sento bene tra l'altro proprio mi sono beccata questa influenza che ho visto ho sentito ieri alla vita in diretta che viene appunto con mal di gola tosse congiuntivite proprio quella che io ho avuto io pensavo che la congiuntivite che ho avuto io fosse una conseguenza di come dire che mi ero magari toccata gli occhi con un magari con un fazzolettino sporco e invece no proprio anche la congiuntivite fa parte del pacchetto e dell'influenza quindi oltre alla tosse oltre al mal di gola che ho già da qualche 10 giorni mamma mia c'è anche appunto la congiuntivite che fa parte di questa influenza quindi e vi devo dire ragazze che non vedo non vedo la luce nel senso ieri per esempio mi sono alzata ieri mattina ho fatto le pulizie poi mi sono andata a fare la doccia e lo shampoo insomma mi sentivo più motivata avevo più voglia di fare le cose stamattina invece che avrei dovuto stare ancora meglio niente nessuna voglia di fare nulla a pranzo vorrei mangiarmi un po di pastina perché ancora la gola mi dà fastidio quindi a pranzo una pastina calda bella piena di brodo ma comunque ragazze ieri ho fatto pure due lavatrici oggi proprio non mi va di fare niente sono stata a letto fino a ora quindi anche il letto è disfatto maia è sempre accanto a me quando io sto male e sto coricata lei è sempre accanto a me è vero amore amore mio vi dovrei fare vedere i veri regali di natale non la burla che ho fatto ieri però voglio fare un video appunto con con voi insomma e anche con la mia faccia scusatevi se sbaglio e anche con la mia faccia per il momento non me la sento e quindi aspetto anche se ragazze i regali sono proprio due perché molto spesso io dai miei figli da mio marito mi faccio regalare soldi in modo che poi posso disporre appunto posso comprarmi quello che mi serve diciamo da sempre facciamo così anche io nei confronti dei miei figli perché appunto regalando soldi poi ci si compra quello che più è urgente è inutile regalare un profumo quando ad esempio a mia figlia serve un'altra cosa o al contrario appunto mi regalano un portafoto che io ne ho centomila e magari a me serve un'altra cosa quindi appunto puntiamo tra gli intimi quindi mio marito ai miei figli puntiamo così con le buste con un piccolo dono in denaro così facciamo realizziamo quello di cui abbiamo bisogno poi naturalmente ho ricevuto un regalo da mio nipote poi che cosa ragazze sapete che non mi ricordo un regalo da mio nipote poi che cosa ci devo pensare poi ho ricevuto il vischio che mi sembra una cosa così ma comunque ragazze poi ne parliamo e ve li faccio vedere e niente ragazze ora vediamo se magari riesco a trovare la voglia di rifarmi il letto perché il letto in queste condizioni proprio non mi piace non mi va e se trovo la voglia anche di lavarmi la faccia il mio marito non c'è è sceso per comprare delle cose e niente quindi voglia di fare saltami addosso e soprattutto influenza vai via perché se non mi passa questa influenza la voglia di fare non mi viene ragazze chi si sta facendo le vacanze di natale qui al sud a palermo sta godendo veramente anche del mare guardate che meraviglia guardate bellissimo e invece io manco esco non metto neanche il naso fuori casa perché ancora sto male ancora il mal di gola che non mi passa bu un mal di gola veramente non lo so comunque ragazze io mi sono rifatta il letto ma me lo sono rifatto pronto per coricarmi perché è inutile non me la sento di stare alzata non sento freddo mi fa male l'orecchio e quindi è inutile insistere se si sta male si sta male mio marito mi voleva portare dove mi volevi portare a sferra cavallo a sferra cavallo a mandare un panino visto queste giornate così belle ma un attimo ragazze cos'è l'isolotto questo e questo è il mare giusto bellissimo veramente sembra di sembra la primavera sembra l'estate sembra di andarsi che si possono fare veramente le vacanze a mare comunque ragazze passerà passerà aspetta passerà speriamo che passi e niente io ho rassettato un po casa ho lavato due cosine mi sono rifatta il letto ora mi mangio un po' di pastina allora vediamo questo mare che c'è qua guardate ragazze qua c'è un bagnante o una bagnante guardate il mare che è trasparente ma insomma niente quindi per ora va così ragazze pazienza aspettiamo che passi ogni anno abbiamo questo regalo così dell'influenza stagionale che colpisce proprio in questo periodo io veramente era da tanto che non cadevo in questa influenza in questo periodo natale capodanno quest'anno ci sono caduta con tutte le scarpe e devo dire che l'influenza si sta riscattando di tutti gli anni che invece non mi ha beccata perché è bella lunga bella tosta con tanti sintomi che non passano e vabbè continuo a dire pazienza perché passerà va bene ragazze io vi saluto adesso mi faccio un po' di pastina e poi subito il mio amico letto mi aspetta perché voglio stare proprio sotto le coperte d'altronde quando c'è l'influenza si dice letto latte lana quindi letto latte lana queste sono le cose che ci aiutano poi a rimetterci il calduccio non appunto non prendere freddo le bevande calde tranne per una persona per una persona non vale per una persona ci sono sempre cozze pesce pesce per quello non vale vale per tutto il mondo per tutta la popolazione tranne che per uno lo chef facciamo un po' il metto chiaro no lo chef sempre pesce e cozze e vabbè beato lui no no beato lui che pensa sempre alle cozze va bene ragazze vi saluto ci vediamo in un momento migliore vediamo domani come sto e finalmente vi faccio vedere questi regali d'accordo ragazze vi faccio vedere ecco è come dire la banalità l'ovvietà dello chef sempre pesce sempre pesce quanto è banale quanto è ripetitivo va bene ragazze vi saluto un bacio ciao 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 ciao